Meghan Markle potrebbe assumere un ruolo che un tempo era legato alla sua defunta suocera, se l'idea si realizzasse. Meghan Markle è stata suggerita per fare un sensazionale ritorno alla recitazione, mentre lei e Ferri, si affrettano a salvare il loro contratto Netflix da 80 milioni di sterline. I rapporti in Australia suggeriscono persino che la duchessa del Sussex, potrebbe ottenere il ruolo principale in un sequel del classico del 1992, The Bodyguard una svolta notevole. Dato che una volta si parlava della principessa Diana, la madre di Ferri, in relazione al film. Si ritiene che Kevin Costner, che ha recitato al fianco di Whitney Houston nell'originale, abbia lanciato l'idea di un seguito. Un insider ha dichiarato alla rivista New Idea. L'unica cosa che Kevin ama di più di una sfavorita come Meghan, è un successo al botteghino. Parlando nel 2012, Costner ha dichiarato. Allo studio è piaciuta l'idea di fare un Bodyguard 2 con Diana come nuovo interesse amoroso. Ha anche parlato con Diana al telefono, dicendo. Ricordo solo che era incredibilmente dolce al telefono. E ha fatto la domanda. Avremo, come una scena di baci. Lo ha detto in modo molto rispettoso. Ho detto, sì, ha continuato la star in un'intervista con la rivista People. Ci sarà un po' di, baci. Ma possiamo fare in modo che vada bene anche quello. Tuttavia, Diana alla fine ha concluso che la sua vita aveva abbastanza drammi, dicendo. Guarda, la mia vita forse diventerà mia a un certo punto. Vai avanti e fai questa sceneggiatura. E quando sarà pronta sarò davvero in una buona posizione.